Musica Nelle prossime ore breve e temporaneo aumento della pressione, ma da mercoledì tempo perturbato per la formazione di una depressione sul Mediterraneo centrale. In Toscana, martedì 26 marzo, sereno o poco nuvoloso in mattinata con locali foschie, velato nel pomeriggio, nuvoloso in serata con le prime piogge sulle zone costiere, venti deboli o moderati di scirocco sulla costa, deboli variabili nell'interno, mari tra poco mossi e mossi, temperature massime in aumento, elevata escursione termica giornaliera. In provincia, cielo nuvoloso con possibili rovesci. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 7, massima 12 gradi. A Castelnuovo di Garfagnana e zone montane, minima 4, massima 10 gradi. A Via Regge sul litorale, minima 9, massima 14 gradi. Mercoledì rovesci con temperature stabili.